Come ti chiami? Cecilia Filippo Davide Mattia Indirizzo e materie caratterizzanti Liceo linguistico, quindi lingue straniere, inglese, francese e tedesco Corso CAT, costruzione, ambiente e territorio Le principali materie sono gestione e cantiere, costruzione e topografia Liceo scientifico, latino, fisica, matematica e scienze AFM, amministrazione, finanza e marketing Le materie principali sono economia politica, economia aziendale e diritto Progetti preferiti del Manzini Corso di cinese e progetto di volontariato La barca a vela in collaborazione con l'università di Udine e le attività di volontariato Il corso CDL e le olimpiadi di matematica e scienze Di certo gli scambi giovanili e il progetto di volontariato Tre motivi per scegliere il tuo indirizzo Si possono studiare le lingue straniere, i prof sono simpatici e si viaggia molto La versatilità, la varietà e la tecnologia Perché ti offre un'ampia possibilità di scelta all'università È un mix tra le materie scientifiche e umanistiche E si fanno degli esperimenti nel laboratorio di chimica Si tratta molto di attualità Si hanno delle competenze molto alte in educazione civica E soprattutto offre molti sbocchi lavorativi Perché scegliere il Manzini? Perché è una scuola a dimensione di ragazzo In cui ci si può aiutare tutti e ci si sente come in una grande famiglia Perché il Manzini è una scuola piccola, compatta E permette di avere un colloquio sostante con i professori Perché è una scuola raccolta e che ti segue durante tutto il tuo percorso Perché essendo una scuola piccola ti senti veramente una persona E non un semplice numero come in un contesto più grande Rapporto con i tuoi docenti Si scherza molto, ci danno sempre una mano e noi la diamo a loro quando serve Sicuramente positivo, ovviamente varia da persona a persona Ma generalmente molto positivo Molto buono, poiché ci stimolano ogni giorno a fare meglio Veramente un bel rapporto, cambia in base ai prof Però veramente buono in generale PCTO, cioè percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento In poche parole, dove hai svolto l'alternanza scuola-lavoro? Ho fatto uno stage linguistico a Dublino Presso uno studio di geometra nella zona di Fagagna A scuola abbiamo creato un tour virtuale dell'edificio I progetti che mi ha fatto fino adesso sono il corso di contabilità integrata Il pon su Guarnerio e il mercato del lavoro Uno slogan per il Manzini Impariamo ma divertiamoci Pensa fuori dagli schemi Pensa a Manzini Al Manzini, con la simpatia, si studia in allegria Il Manzini dirà proprio cosa da pensare Fai una faccia da Manzini? Fai una faccia da manzini